Io sono Anna Parasacchi, coordino con Alessandra Baile Modesti che è qui in sala al Green City Network, uno dei network della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Mi piace ricordare che abbiamo lanciato questo network di città nel 2017 proprio qui all'Aquario Romano con un manifesto, che è il manifesto Città Futura, a cui è seguito un documento importante che sono le linee guida delle Green City. La Sharing Mobility è all'interno di una delle nostre linee guida, però rispetto a quello che stamattina ha raccontato Massimo Ciuffini, mi sembra importante questo enorme sviluppo che la Sharing Mobility ha avuto e che mi consente di poter dire che è trasversale agli obiettivi che le Green City si sono posti all'interno di questo documento. Cioè è un tassello importantissimo rispetto alla qualità dell'abitare, se uscite vedete quante macchine invadono le nostre città e rimangono ferme occupando spazio urbano fondamentale per la qualità della vita. Sono uno dei tasselli fondamentali di un altro grande obiettivo delle Green City che è quello della condivisione dello Sharing, cioè all'interno della economia circolare. E ultimo, ne parlerà poi il Presidente Ronchi, sono uno degli strumenti fondamentali rispetto al grande tema del clima e della decarbonizzazione delle nostre città. La quindicesima delle nostre linee guida tocca uno dei temi che oggi affrontiamo, cioè quello della digitalizzazione. E la possibilità quindi sempre più, come dire, innovativa, interessante e del futuro di consentire agli utenti di utilizzare in modo vario tutta una serie di possibilità, di modalità, di scelte per i loro spostamenti. Allora, la prima relazione è di Luigi Norato, Monitor Deloitte, che ci racconterà proprio questo passaggio tra la Smart City, che io mi auguro sia sempre più green, e il cittadino che diventa un cittadino consapevole e intelligente. Prego Luigi. Si sente? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente per prima cosa Raimondo e l'associazione per averci ancora dato dopo anni la possibilità di essere qui, Massimo in particolare che ci supporta e ci aiuta nelle nostre riflessioni. Allora, entro subito nel merito perché ci hanno dato 15 minuti, quindi magari accelererò, chiedo scusa se su alcuni concetti saremo molto alti, però cercheremo di dare dei flash un po' su tutto. Allora, faccio una premessa molto veloce, quando nel mese di giugno e luglio stavamo lavorando, anche confrontandoci con l'osservatorio sui temi che avremmo portato oggi all'attenzione di tutti quanti voi, ci siamo imbattuti nei colleghi dell'MIT di Boston che hanno questo mensile che pubblicano periodicamente dove raccontano i principali trend della tecnologia a livello globale. E ci ha preso un colpo perché guardate che titolo che aveva era Death to the Smart City, quindi la Smart City di fatto è morta o comunque è morta alla Smart City. Ora, siccome noi stavamo già da tempo ragionando su questo concetto, abbiamo cercato di capire un po' meglio che cosa volessero effettivamente dire e se c'erano elementi da tenere in considerazione, perché il titolo era piuttosto forte. I colleghi dell'MIT iniziano una carrellata di tutte quelle che sono storicamente state rilevate come fallimenti nei progetti di sviluppo delle Smart City. Ora, non li racconterò tutti, vi rimando eventualmente al loro report per avere maggiori dettagli, però iniziano una carrellata, per esempio ci raccontano di Toronto dove nel 2017 è stato avviato un importante programma di sviluppo della tecnologia all'interno della città, a circa 4 miliardi di investimento, di fatto poi nel 2020, dopo solo tre anni il progetto è stato interrotto perché lo sviluppo delle tecnologie aveva portato di fatto a un significativo aumento del costo degli immobili, quindi poi queste case non riuscivano a essere acquistate dalle persone normali. Oltre ad avere una tematica importante relativa anche alle tematiche di privacy, che è un aspetto che spesso si porta dietro la tecnologia come effetto collaterale. E ancora altri esempi, l'esempio di Columbus, Ohio, piuttosto che New York e Marsiglia, ci ha colpito il caso di New York perché mi è venuto in mente Massimo, perché nel caso specifico erano stati avviati importanti investimenti per la mobilità con le biciclette, però di fatto non erano stati pensati i parcheggi, quindi il problema che avevano erano i furti che avvengono anche fuori dal nostro paese, a volte in maniera ancora più significativa di quanto siamo abituati a pensare. Si sente male? Vicino? Ok. Ora, quindi, oddio, troppo forte così. Comunque di fatto quello che i colleghi dell'MT ci dicono è che in realtà quello che è morto è un modo di guardare alla Smart City in maniera esclusivamente tecnologica. Quindi questo credo filosofico nella tecnologia che risolve ogni problema è in quanto tale, una volta applicata, noi diventiamo improvvisamente smart. In realtà i casi che loro ci raccontano ci portano a vedere la cosa in maniera completamente diversa. Quindi in realtà non è che muore la Smart City, muore un modo di interpretare la Smart City in maniera apprettamente tecnologica. Ora, questa riflessione che noi, devo dire, condividiamo a pieno ci porta poi un'ulteriore riflessione che racconto con un certo imbarazzo perché poi alla fine c'è veramente poco di nuovo in quello che adesso sto per dirvi e cioè che la tecnologia funziona nel momento in cui noi siamo effettivamente in grado di capire prima di tutto a cosa serve. E quindi comprendere quelli che sono effettivamente i bisogni che noi abbiamo all'interno di una città. Ritornando a quello che diceva anche prima il Ministro, il Ministro prima ha parlato di rivoluzione ma soprattutto ha detto evoluzione. Ecco, nessuno meglio di noi può comprendere come noi siamo al centro di un percorso di evoluzione che sta influenzando in maniera importante i nostri bisogni. Quindi questo principio è di per sé molto semplice, ci deve però spingere a capire effettivamente noi prima di tutto cosa vogliamo all'interno delle nostre città e quindi di conseguenza cosa è bene cambiare. E seguendo questa provocazione, come di consueto abbiamo svolto un'indagine demoscopica, adesso vi racconterò i principali tratti salienti, non entrerò nei dettagli, però vedete che ci sono degli aspetti significativi su cui dobbiamo necessariamente ragionare. Primo aspetto, come già avevamo detto la scorsa volta e qui lo ripetiamo con forza, noi abbiamo bisogno di servizi intelligenti ma vicini a noi. La complessità della città è una cosa, la complessità letta a livello di quartiere è un'altra. Quindi quello che a noi interessa, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, è quello di avere dei servizi che sono di prossimità, che ci riportano alla mente il concetto della città basata su 15 minuti. Ed è importante capire quali sono le cose che noi vogliamo vicino a noi. Ovviamente i beni di prima necessità sono al primo posto, come vedete, però poi a seconda delle generazioni noi abbiamo dei bisogni e delle necessità diverse. Ovviamente l'allungamento dell'aspettativa di vita pone per esempio nel podio dei servizi di cui abbiamo più bisogno tutto il mondo dell'assistenza. Così come invece per le famiglie più giovani i servizi per l'istruzione o per la famiglia sono sentiti in maniera molto importante. Curioso il dato sul lavoro, vedete il 16% è la preferenza in termini di prossimità, l'altra volta era il 51%. Questo probabilmente è un elemento su cui bisognerà porre l'attenzione perché qui probabilmente il tema dello smart working influenza questa preferenza. E in generale, cosa molto importante, 7 italiani su 10 dichiarano di non vedere questi servizi all'interno del proprio quartiere. Qui stiamo parlando di una media nazionale, quindi non c'è solo Roma, Milano, ma ci sono anche i paesi o le città di provincia che influenzano su questo giudizio. Secondo aspetto, ne parlavo prima con alcuni di voi durante il break, noi abbiamo delle rinnovate sensibilità e la sostenibilità è una di quelle più importanti in questo momento sentite. E non si tratta più di un tema di dibattito esclusivamente politico o da convegno, è un fatto oggettivo. Oggettivo nel senso che influenza i nostri comportamenti di acquisto e quando la sostenibilità o qualsiasi cosa influenza i nostri comportamenti di acquisto, le aziende fanno di questo una priorità. Quindi oggi tutte le aziende hanno al centro della loro strategia quello di dare dei servizi sostenibili, dove per sostenibilità qui intendiamo in grado di cogliere la sensibilità del rispetto ambientale. Perché poi la sostenibilità è un concetto ampio, qui lo intendiamo in questo senso. E quindi le aziende sono impegnate in questo percorso anche perché sanno meglio di noi che oggi chi compra un servizio premia chi è in grado di presentarlo in maniera sostenibile. E se questa domanda la caliamo sulle necessità che abbiamo all'interno della nostra città, qui vedrete tre elementi molto semplici che sono la traduzione del concetto di sostenibilità all'interno del nostro quartiere o all'interno della nostra città. Gestione dei rifiuti, sviluppo di aree verdi e riqualificazione dell'edilizia in maniera più sostenibile. Ora queste percentuali non devono trarre in inganno, sono molto più alte di quelle che rappresentano numericamente perché sono all'interno di opzioni multiple. Quindi è un peso importante e hanno queste tre preferenze. Quindi servizi di prossimità, nuove sensibilità e ancora una forte predisposizione alla gestione da remoto in logica digitale dei servizi, in particolare nel dialogo con la pubblica amministrazione. Qui le percentuali sono quasi bulgare, però ecco c'è un aspetto che spesso si sottovaluta. Il Covid ci ha aiutato a diventare un po' tutti digitali, anche di più di quello che eravamo prima, però attenzione che ha un significativo peso anche il rapporto fisico. E quello che sembra essere anche più vincente è proprio l'integrazione della tecnologia con la persona. Quindi avere la possibilità di prenotare una visita o una pratica amministrativa e quindi non utilizzare l'auto ha sicuramente un valore. Avere la possibilità anche di parlare con qualcuno dall'altra parte, se c'è un problema, ha altrettanto un valore. E questa sensibilità agli investimenti nel digitale è molto sentita. E d'altra parte riscontriamo anche che abbiamo un livello di qualità di questi servizi molto basso, perché poi di fatto solo uno su dieci è soddisfatto di come il servizio ci viene offerto sia a livello locale che a livello centrale. Devo dire che qui i progressi negli ultimi sei anni solo, ne sono stati fatti tanti, evidentemente non sono ancora adeguati. Quindi prossimità, nuove sensibilità, un utilizzo intelligente della tecnologia e ancora una maggiore disponibilità a partecipare. Ecco, questo è un aspetto forse il più importante tra quelli che vorremmo porre oggi alla vostra attenzione, e cioè noi non ci sentiamo coinvolti nei programmi di trasformazione che stanno caratterizzando le nostre città e i nostri quartieri. Non le conosciamo, non siamo coinvolti, e questo è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione. Vedete, il 90% dice di non essere attivamente coinvolto. E soprattutto la disponibilità ad essere coinvolti è alta, perché da una parte riteniamo che se chiedessero a me all'interno del mio quartiere quali sono quelle tre cose che devono cambiare, io sono in grado di capirle meglio di altri che magari le vedono dal centro. E dall'altra penso anche che se partecipassi potrei anche aiutare a capire quali sono gli interventi da realizzare. Pensate per esempio alla viabilità del nostro quartiere. E le modalità con cui vogliamo partecipare sono le più diverse. Noi siamo pronti a partecipare attraverso piattaforme che ci hanno la possibilità di esprimere le nostre preferenze, ma anche soluzioni molto più in stile secolo scorso, comitati di quartiere. Insomma, è l'integrazione tra la tecnologia e il tradizionale che ci può aiutare a partecipare. Siamo anche disponibili con il crowdfunding a dare un piccolo contributo, se questo è per iniziative che all'interno del mio quartiere io posso vedere. Quindi quella affermazione che ci metteva in imbarazzo, che dicevamo prima, e cioè guardiamo la tecnologia dopo che abbiamo compreso i nostri bisogni, ecco, diventa in questo modo un po' più tecnico, un po' più industriale, perché alla fine noi abbiamo nuove sensibilità che devono essere obiettivamente colte. e anche noi, diciamo, possiamo avere un ruolo. Ed ecco, qui lasciatemi dire una cosa che veramente viene fuori in maniera proprio naturale. Noi abbiamo usato l'aggettivazione smart per tutte le cose, TV, devices, auto, Anche gli stati sono diventati smart, ma nessuno ha pensato a metterlo a noi questa aggettivazione. Che forse la meritiamo, se non altro, anche per un motivo quasi fisiologico. Ecco, anche noi siamo smart, anche noi siamo in grado di contribuire. Se qualcuno ci chiedesse di cosa abbiamo bisogno, magari possiamo anche aiutare a comprendere meglio certe linee di cambiamento. E a questo punto, tra l'altro, abbiamo utilizzato i colleghi delle MIT, lo abbiamo ovviamente tirato ai nostri fini. Ed ecco che improvvisamente quei fallimenti che avete visto prima, adesso poi nel report ci sono tutti i dettagli per cui non li racconto, improvvisamente cambiano. Faccio solo il caso di Toronto, progetto bloccato nel 2020, riparte con una visione un po' più pragmatica. Questi signori hanno capito che tutte quelle tecnologie di domotica all'interno dell'appartamento servivano al giusto, quindi ne hanno utilizzate quelle che effettivamente servivano, i prezzi si sono abbassati, mi hai dato effettivamente quello che serviva. E improvvisamente il programma è rifiorito. Lo stesso anche per i tre casi che raccontavo prima, per esempio nel caso di Columbus, dove erano state progettate le navette autonome, queste navette autonome non sono più autonome, vengono utilizzate per dare i servizi alle categorie più bisognose, portano i cibi, i pasti, a persone che ne hanno bisogno. E hanno creato anche un servizio Uber per le donne che aspettano i bambini, i bambini per poter avere più facile accesso o in emergenza o per le visite programmate. Poi a New York ci hanno superato a destra, nel senso che hanno fatto i parcheggi. Questa è una cosa che sicuramente era stato bene, sarebbe stato meglio pensare prima. Ora, la mobilità come entra in questo ragionamento? Entra perché anche qui, partendo dal principio che il cittadino è più smart di quello che sembra, e quindi chiediamo a lui come vive la mobilità, e qui scopriamo delle cose probabilmente ovvie, però almeno confermano alcune evidenze. La mobilità c'entra perché non esiste città intelligente che non rivede il servizio di mobilità, se non altro perché noi ci muoviamo prevalentemente all'interno delle città. Noi i viaggi li facciamo in città. E soprattutto, nonostante lo sviluppo significativo del ventaglio di Remondo e di Massimo, noi tutta questa nuova mobilità non la vediamo. E poi può essere falso o vero da punto di vista reale, però questo è quello che sentiamo. Oltretutto, se andiamo avanti nell'indagine, la soddisfazione che noi abbiamo, ma questa era anche abbastanza facile, rispetto ai servizi di mobilità non è delle migliori, solo il 16% è soddisfatto. Uno su tre. Si pone una questione di sicurezza, per cui bisognerà spiegare che effettivamente i rischi non sono così alti nella nuova mobilità, però è anche vero che noi ci sentiamo insicuri, perché se io poi guido il monopattino in certe condizioni di contesto, non c'è dubbio che mi sento perlomeno più insicuro. Ma la cosa importante è che noi siamo pronti a cambiare, se abbiamo delle alternative. L'83% dice che io posso anche non utilizzare l'auto, che tra l'altro condivido a un costo elevatissimo, purché ci siano alternative. Da questo punto di vista, faccio una battuta, ne parlavamo prima con Remondo, i diciottenni e i diciannoventi ci sono già arrivati. La patente non è la loro priorità, appena fanno il diciottesimo, a differenza della generazione mia, che cercava di farla anche a 16 anni, la patente. Quindi c'è la disponibilità a leggere nuove forme di mobilità. Qui vedete le iniziative verso cui siamo più attratti per non utilizzare l'auto. Vedete che in particolare i giovani mostrano una maggiore predilezione per le forme di mobilità leggera. E in generale, a livello di campione nel suo complesso, benvenga l'utilizzo dei fondi che noi abbiamo in questo momento per rivedere il sistema delle infrastrutture, perché poi inutile ci giriamo intorno. Se non cambiano le infrastrutture, certe forme di mobilità fanno fatica ad affermarsi. Quindi, accelerando per chiudere, ci sono tanti elementi da tenere in considerazione per cercare di disegnare un modello di mobilità. Concludo dicendo molto semplicemente, anche qui e tornando un po' al buonsenso, che, come già accennavamo nella discussione precedente, la mobilità cambia nel momento in cui coinvolgiamo tutti, quindi non solo le istituzioni centrali o locali, ma bisogna coinvolgere le imprese, bisogna coinvolgere gli istituti di ricerca che ci possono stimolare nelle tecnologie e nelle innovazioni, ma soprattutto ci siamo anche noi, come cittadini, e quindi l'obiettivo è quello di riuscire a capire tutti quegli ingredienti che caratterizzano la Smart City, che vanno dalla mobilità alle infrastrutture, alla burocrazia, allo snellimento burocratico, eccetera, per capire effettivamente quello che ha senso, senza dimenticare che questo richiede comunque un approccio inclusivo e, ripeto, noi siamo al centro di questo percorso. Concludo veramente con un'ultima riflessione, l'anno scorso dicevamo che la 15 Minutes City è un elemento essenziale per costruire una città intelligente che poi insieme alle altre città può portarci a un paese anche più preparato e più capace, qui aggiungiamo quello che non avevamo mai citato, ecco, c'è anche lo Smart Citizen, scusate, e tornando alla provocazione dell'MIT, non è morta la Smart City, quello che deve in qualche modo finire è un approccio che guarda le tecnologie in maniera molto, diciamo, colorata, quindi mettiamo al centro anche la comprensione di quello che noi vogliamo come utenti di una città e coinvolgendo tutti gli attori che abbiamo visto in precedenza definiamo quelle traiettorie che servono per arrivare a un futuro che poi non è così lontano. Vi ringrazio, ho finito. Grazie, grazie Luigi Onorato per questo interessante intervento, solo colgo di nuovo per rimarcare che la Smart City non muore se si allea con la Green City, cioè se le città, le amministrazioni, le imprese hanno un obiettivo comune che è quello di dare in questo momento, ma davvero oromo in più un'accelerata a quello che sono gli obiettivi che l'Europa, che il mondo, come dire, ci impone, a questo punto non si capisce neanche qual è l'obiettivo generale. Quindi l'alleanza tra la digitalizzazione e quello che è, diciamo, l'emergenza e le sfide attuali diventa assolutamente essenziale. Allora, visto che abbiamo parlato appunto di cittadino, il cittadino chiediamo a Sara Venturoni, responsabile direzione stazioni RFI, passiamo a un'altra questione, lo spazio. Arriviamo nelle nostre città, arriviamo nelle stazioni, gran parte delle volte, grandi, piccole, grandi città, piccole città. Quali sono i progetti in campo ora e anche quelli in previsione, visto che abbiamo anche dei fondi consistenti del PNRR, che ci consentono quindi magari di immaginare delle città sempre più capaci di accogliere queste modalità diverse di servizi e di CERI. Prego Sara. Buongiorno a tutti. Questa è la quinta conferenza alla quale RFI partecipa, quindi è un partner storico dell'osservatorio. Prima di entrare nel vivo del mio contributo di oggi, volevo richiamare il razionale di questa collaborazione, su cosa si fondano le attività che portiamo avanti con l'osservatorio, all'interno dell'osservatorio ovviamente, con tutti i soggetti che a vario titolo danno un contributo sulla catena del valore della CERI Mobility. RFI ha da tempo riposizionato la visione delle stazioni e mobilità dolce, pubblica e condivisa sono le principali alleate della nostra visione della stazione ferroviaria come hub della mobilità sostenibile ed integrata. Alcuni concetti sono stati richiamati dal Ministro questa mattina e non a caso il primo elemento che vorrei portare alla vostra attenzione è che il lungo lavoro che è stato fatto, con un'accelerazione negli ultimi anni, ha portato innanzitutto a portare a casa e a consolidare delle cornici di programmazione strategica che sono oggi delle certezze. Non è facile evidentemente, sono processi lunghi e noi siamo riusciti quest'anno a consolidare due momenti importantissimi che per noi rappresentano la cornice all'interno della quale RFI porta avanti i propri progetti e da sostanza ai propri obiettivi. Il primo di questi è il documento strategico sulla mobilità ferroviaria, passeggeri e merci è stato un lavoro che abbiamo fatto con il Ministero, tra l'altro con modalità nuove perché abbiamo messo a disposizione del Ministero che il nostro primo d'ante causa RFI alla fine è un concessionario pubblico, i rapporti sono regolati da questa concessione e quindi conoscete lo sforzo che abbiamo fatto di elaborazione di strumenti tecnologici che consentissero a RFI di conoscere meglio la propria realtà, soprattutto quella della relazione tra la rete e i territori e questa dote importante di dati è stata messa a disposizione del Ministero per le valutazioni relative alla pianificazione di primo livello. All'interno di questo documento c'è una sezione per noi importantissima nella quale approcci, metodologie e quindi obiettivi strategici ruotano intorno al tema dell'intermodalità tra la rete ferroviaria che è l'asse portante della mobilità sostenibile nazionale e gli altri sistemi di mobilità. E qual è il principio che in qualche modo il Ministero ha fatto proprio? Quello di, Deloitte ha richiamato il tema importante della infrastrutturazione di cercare di creare un meccanismo virtuoso attraverso il quale questo avvicinamento che RFI sta facendo ai territori cogliesse dall'altra parte una risposta di pari entità e quanto più possibile allineata sul riequilibrio delle forme di mobilità a livello urbano che noi abbiamo in qualche modo schematizzato in questa piramide rovesciata che altro non è che la gerarchia attraverso la quale cerchiamo di utilizzare al meglio e di spingere le città a confrontarsi con noi per fare velocemente quello che occorre per far in qualche modo affermare delle forme di mobilità più sostenibili e fare in modo che sia l'infrastruttura, quindi la forma dello spazio, che i servizi coerentemente realizzino questo progetto un progetto quindi che si fa a più mani. Ma questo è solo il primo livello della collaborazione che ovviamente abbiamo con altri soggetti ma è importante associare a questo documento strategico l'altro passo importante che abbiamo fatto con il Ministero quest'anno è stato aggiornato il contratto di programma che RFI periodicamente definisce con il Ministero in cui sono inseriti i piani di sviluppo dell'infrastruttura ovviamente all'interno di questi anche un piano di modernizzazione badate bene epocale perché le risorse che sono state messe a disposizione sono veramente consistenti con l'occasione il gruppo Ferrovie come sapete ha elaborato un piano decennale che è stato presentato all'inizio di quest'anno e all'interno di questo piano sono state individuate un perimetro di circa 620 stazioni e nell'arco di piano noi opereremo degli interventi significativi di modernizzazione ovviamente infrastrutturale dei complessi immobiliari delle stazioni ma anche di quello spazio esterno che sono i piazzali antistanti le stazioni storicamente dati in comodato d'uso ai comuni per ovvi motivi di competenza sulla mobilità urbana ma che sono di proprietà ferroviaria quindi in qualche modo RFI con la propria azione contemporaneamente ai lavori di riqualifica delle stazioni metterà a mano anche a questi spazi che ovviamente sono da coprogettare con gli enti locali e vediamo come portiamo avanti questo piano come vedete è un piano che interessa tutta l'Italia abbiamo addirittura dedicato con il ministero una voce specifica del PNRR alle stazioni del sud Italia con 700 milioni dall'ambito strategico delle infrastrutture ferroviarie all'interno del PNRR e altre fonti di finanziamento come il Fondo Nazionale Complementare o più tipicamente quelle che vengono erogate attraverso questo strumento fondamentale che è il contratto di programma tra RFI e il ministero quindi questi sono due cardini, abbiamo delle certezze vediamo quali sono le altre azioni che RFI sta portando avanti quindi abbiamo detto pianificazione di primo livello c'è poi un confronto, lo abbiamo ribadito, è stato ribadito i vari contributi dati dai colleghi e poi però la pianificazione si attua a livello locale quindi rapporti con le regioni, con le città metropolitane e con i comuni per entrare più nel vivo della pianificazione di secondo livello dove ovviamente la conoscenza del territorio è al centro delle scelte che vengono attuate e noi cerchiamo di farlo in maniera coordinata e sinergica con tutti gli interlocutori che devono stanziare risorse su vari capitoli faccio l'esempio delle regioni che hanno dei fondi da dedicare a TPL, a ciclabilità, a mobilità elettrica a sharing mobility, con i comuni va da sé che sono impegnati insieme alle città metropolitane nell'attuazione ormai dei loro piani urbani della mobilità sostenibile quindi è importante che ci sia questo costante confronto ovviamente l'azione di collaborazione è anche con altri soggetti diciamo che oltre all'osservatorio in questi anni abbiamo portato il nostro contributo di collaborazione alla nostra presenza anche all'interno dell'osservatorio sui PUMS e siamo soci di Motusse, la settimana scorsa eravamo ai MOB a Milano perché anche il tema della mobilità elettrica è di grande rilevanza per quei sistemi che vogliamo che si affermino sempre di più intorno alle stazioni questo è quello che abbiamo in qualche modo consolidato quindi abbiamo radici profonde, hanno portato già dei buoni frutti come potete apprezzare, vediamo che cosa c'è da fare di più e magari anche di meglio sul tema dei tempi allora questi sono dati che ogni anno riproponiamo attraverso questo strumento che ho ricordato poc'anzi, la nostra piattaforma di location intelligence, Stationland che molti di voi hanno imparato a conoscere monitoriamo l'andamento dello sviluppo dei servizi di sharing intorno alle stazioni indubbiamente sono dati tendenzialmente in crescita, costantemente in crescita e quindi questa cosa dovrebbe in qualche modo renderci soddisfatti e invece non lo siamo perché oltre a una profonda divisione tra il nord e il sud del paese che è stata evidenziata da Massimo questa mattina abbiamo l'evidenza sicuramente di opportunità che anche con poco, badate bene potrebbero portare ad una crescita più consistente e quali sono queste azioni che quindi potrebbero essere promosse anche gestionalmente in maniera diciamo semplice per cercare di individuarle in maniera più corretta con l'osservatorio quest'anno abbiamo sottoscritto un protocollo di collaborazione di tre anni che l'ha ricordato Raimondo ha messo in campo un'attività molto più tecnico-specialistica di scambio di dati sharing mobility significa anche data sharing quindi dati di cui noi disponiamo che sono analisi molto accurate di quali sono le motivazioni di viaggio, la segmentazione della clientela cioè chi sono le persone che utilizzano il treno in qualche modo anche chi sono le persone che vorrebbero utilizzare il treno e che oggi non hanno un'adeguata accessibilità il Ministro ha ricordato questo termine per noi è fondamentale l'accessibilità vuol dire connettere questi gangli vitali della mobilità territoriale in maniera più efficace oltre a questo evidentemente noi abbiamo bisogno di capire i servizi presenti come vengono utilizzati perché lo vediamo nella realtà nelle realtà dove sono già fermati questi servizi a volte ci sono delle disfunzionalità per esempio non c'è una corretta proporzione in alcune fasce della giornata tra l'utilizzo intenso di questi mezzi perché evidentemente c'è una domanda di mobilità ferroviaria più alta in quella fascia e il dimensionamento degli spazi per allocare questi mezzi in maniera ordinata parlavamo poco anzi con Anna Donati e con Sevino a Milano e molto spesso le persone che poi devono prendere il treno magari parcheggiano l'auto in diveto di sosta perché non ci sono degli stalli dedicati per far sì che questo scambio sia effettivamente pensato e dimensionato in maniera proporzionale all'utilizzo che poi le persone ne fanno ebbene i dati che condividiamo con l'osservatorio e cerchiamo in qualche modo di mettere a disposizione delle amministrazioni del territorio che poi devono promuovere le corrette azioni perché questi servizi funzionino bene e si sviluppino sempre di più sono raccolti diciamo in una serie di capitoli di approfondimento le aree di copertura per esempio capire dove maggiormente è concentrata l'utilizzo di questi mezzi ma dove per esempio la copertura dei servizi non c'è a nostro avviso tutte le stazioni ferroviarie dovrebbero avere la copertura di almeno un mezzo in sharing perché è vero che questi mezzi vengono utilizzati dove c'è da parte degli operatori un interesse maggiore perché ci sono evidentemente degli utilizzi più intensi e questo sostiene il modello di business però è vero altresì che nelle aree meno dense dove c'è magari un'offerta più debole del TPL quindi di altre forme alternative alla mobilità privata e questi mezzi potrebbero essere perché no la risposta per collegare meglio le stazioni che non sono appunto al centro in questo caso delle grandi aree metropolitane andando avanti questi sono piccoli esempi degli studi che stiamo facendo nel pomeriggio di oggi ci sono gli assessori delle principali città italiane e non ce n'è una che non rientra nel nostro perimetro di azione in quanto a progetti che stiamo portando avanti per riqualificare le stazioni e questo vi dà l'entità anche una componente del 10% di utilizzo per esempio del car sharing station based nella città di Palermo concentrata intorno alla stazione di Palermo centrale sono dati significativi quindi nelle realtà dove questa cosa è già affermata sicuramente si può lavorare meglio per far sì che questa cosa migliori l'esperienza e sia portata sempre più con azioni che noi definiamo push and pull da parte delle amministrazioni in cui offrire un mezzo alternativo all'auto privata porta appresso anche ovviamente quello di svolgere delle azioni che disincentivino il mezzo privato cioè lo smart citizen non nasce probabilmente da solo nasce grazie anche all'aiuto che dal punto di vista delle abitudini di spostamento le amministrazioni cercano di promuovere e quindi è una crescita che si fa in qualche modo insieme per primi quelli che amministrano il territorio e conoscono le comunità questi sono piccoli paradossi aree di copertura in città anche come Roma la stazione Roma Aurelia ha solo probabilmente 50-100 metri non riesce ad essere soddisfatta dall'offerta di questi servizi stessa cosa a Palermo abbiamo visto Palermo Centrale è sicuramente un'ottima copertura altre stazioni che sono all'interno dell'area metropolitana di Palermo non sono servite quindi su questa attenzione a ciò che già di buono è stato fatto e che più velocemente dobbiamo realizzare nei prossimi anni c'è sostanzialmente il rinnovo di un invito però è il momento della rivoluzione è il momento dell'evoluzione è il momento secondo me anche dell'accelerazione cioè in questi anni abbiamo fatto tanto ma per fare di più adesso dobbiamo mettere in campo soprattutto perché RFI deve realizzare questi progetti di investimento alle risorse in mano c'è una cornice di pianificazione che conforta dal punto di vista dell'allineamento degli obiettivi il momento è adesso spesso non si può aspettare il grande progetto di investimento si possono fare delle azioni gestionali anche più semplici e immediate ma l'importante è che questa attenzione che noi stiamo cercando di mettere nel portare le stazioni più vicine alle città sia ricambiata da un'altrettanta attenzione da parte delle amministrazioni del territorio a focalizzare quanto importante sia la stazione ferroviaria all'interno del loro territorio e dei loro sistemi di mobilità anche perché la stazione connette con altre realtà e quindi rappresenta indubbiamente anche delle ricadute di tipo economico per quel contesto e quindi portare questi servizi venendoci a cercare l'ultima informazione che voglio darvi rispetto allo scorso anno anche noi ci siamo fatti un'analisi del perché questi inviti che abbiamo rivolto agli enti locali con i quali collaboriamo per tante cose non siano stati raccolti in termini massivi ebbene anche noi siamo un gruppo complicato ci sono varie società che si occupano di tematiche diverse su questo voglio confortarvi con il fatto che abbiamo anche attuato delle modifiche organizzative che hanno allineato le strutture che presidiano la parte di evoluzione strategica delle stazioni e la realizzazione degli investimenti con le strutture del territorio che presidiano gli aspetti gestionali patrimoniali che a volte sono i veri nodi burocratici che non si riescono facilmente a superare per far sì che con poco tempo soltanto ritagliando uno spazio e studiando meglio di un piazzale si riescono a raggiungere nel breve dei risultati di questo tipo vi ringrazio grazie mille a Sara Venturoni intanto anche per aver lanciato nuovamente diciamo alle città questa mano di collaborazione senza la quale non si riesce ad accelerare come sottolineava Sara Venturoni intanto ringrazio alcune città che sono presenti qui Sorradile Pordenone Roma e tutte quelle che si collegano oggi perché comunque le città grandi piccole anche perché ricordiamoci che ci sono anche le piccole medie piccole sono comunque interessatissime a questo tema e parliamo di buone pratiche il Green City Network mette in campo sempre con le città che aderiscono al nostro netto quelle che sono le cosiddette buone pratiche ma non è così un fatto formale perché le città imparano le une dalle altre assolutamente l'abbiamo sperimentato in cinque anni di attività con le ormai 300 città che aderiscono al nostro network quindi è fondamentale come dire disegnare una strada segnare una strada sia italiana ma anche di esperienze internazionali quindi Saverio Galardi County Manager di TIR che ringraziamo ci racconta proprio di alcune di queste esperienze internazionali che diventano sempre come dire estremamente interessanti prego grazie mi sentite beh sì le città imparano l'una dall'altra gli operatori di sharing imparano dalle città le città imparano dagli operatori di sharing siamo soprattutto nel regime della mobilità in sharing ancora agli albori di un settore che insomma conosciamo conosciamo tutti quindi è necessario avere un approccio un approccio di conoscenza reciproca e appunto voglio parlare di questo di fatto dei principi che abbiamo osservato durante la nostra attività in Europa nelle sinergie con le città non riesco a mandare avanti le slide ecco non funzionava ottimo non tutti forse conosceranno TIR è una società piuttosto giovane sia nello scenario della mobilità sia in Italia in quanto è arrivata da pochi mesi di fatto dal dicembre dello scorso anno quindi vi do velocemente qualche tratto TIR Mobility è un gruppo tedesco è di fatto il più grande operatore al mondo di micromobilità multimodale abbiamo oltre 500 città siamo attivi su tre continenti fa parte del gruppo non soltanto TIR Mobility che appunto eroga servizi di monopattini elettrici in sharing e biciclette elettriche in sharing ma anche Next Bike che è stata acquisita lo scorso anno società tra le società leader nel settore della mobilità con biciclette sia station based sia elettriche che muscolari ma anche free floating con una storia importante una società che esiste da oltre 20 anni ed è estremamente solida nella sua attività TIR Mobility è questo TIR Mobility è un gruppo solido che si è creato uno spazio in Europa partendo dalla Germania e adesso ha una dimensione di leadership altri tre tratti salienti siamo 100% climate natural abbiamo sviluppato una serie di veicoli che hanno oltre 5 anni di vita media sia sul monopattino che sulla bicicletta in sharing e siamo un operatore che cura molto l'intermodalità abbiamo sviluppato una serie di connessioni di tecnologie che ci permettono di connetterci con gli operatori al di là del mass che arriverà ma già adesso con gli operatori di mobilità tradizionale quindi del TPL così da agevolare l'interoperabilità sia in Italia che chiaramente all'estero quindi prima parlavamo di come il trasporto pubblico come le stazioni possono diventare un luogo fondamentale della mobilità parto proprio da questo punto e parto da un racconto che è il racconto di Oslo non dico niente di nuovo però racconto un'applicazione l'applicazione che abbiamo svolto insieme alla città di Oslo abbiamo mappato i punti di presa scusate il tasso di presa il tasso di rilascio su ogni stazione della coperta della nostra area di servizio ad Oslo andando a identificare quelli che erano i punti forti di intermodalità e lì insieme alla città e chiaramente insieme agli alto operatori ci siamo ci siamo spesi per rafforzare l'offerta di mobilità andando poi anche a capire che tipi di interventi potevano essere fatti per regolamentare il parcheggio quindi un lavoro prima di studio e successivamente di applicazione di politiche nuove in interconnessione con la città perché queste cose non si fanno da soli non è soltanto l'operatore si può farlo ma avrà un'applicazione limitata e avrà anche un risultato limitato prima di raccontare le altre le altre esperienze faccio un anche qua tocco di fatto vado oltre rispetto a quello che ci siamo detti fino ad ora in questa conferenza questa mattina abbiamo capito che la mobilità in sharing è cresciuta tantissimo che l'apporto dello sharing del monopattino della bicicletta sono stati fondamentali negli ultimi due anni per questa crescita qui attraverso il rapporto McKinsey ci siamo chiesti ma dove sta andando che futuro possiamo immaginare beh attraverso un sondaggio McKinsey ha di fatto dipinto quello che è di fatto una scoperta piuttosto tiepida nel senso però è bello vederlo è bello dircelo stanno cambiando le abitudini dei consumatori stanno cambiando le abitudini di mobilità delle persone cito non soltanto oltre McKinsey ma anche il report che abbiamo potuto apprezzare a Expo Move a Firenze lo scorso 6 ottobre dove viene raccontato come l'ambito di mobilità che maggiormente è cresciuto nell'ultimo anno è stato la mobilità a piedi che quindi si interconnette con i dati che abbiamo evidenzato prima cioè il fatto che la mobilità a piedi la riduzione del tragitto medio e il fatto che la maggior parte delle persone che utilizzano la mobilità in sharing sono persone che vanno a piedi significa che stiamo cambiando stiamo avvenendo un cambiamento delle scelte di mobilità delle persone quindi guardiamo avanti guardiamo avanti e capiamo che sviluppo possa avere e qui McKinsey ci progetta ci proietta in un futuro al 2026 con un incremento di oltre tre volte i volumi attuali anche perché aumenta la popolazione all'interno delle città quindi abbiamo detto che la scelta dei cittadini va nella direzione della mobilità dolce il target le persone che utilizzano mobilità in sharing sono tra 18 e 50 anni andiamo tutti gli indicatori ci portano in quella direzione oltre chiaramente a quanto ci hanno raccontato i cittadini intervistati da McKinsey quindi c'è un mercato che inizia che traina un mercato che ha avuto una fase di esplosione di sperimentazione di grandi investimenti che però gli indicatori ci dicono continuerà a crescere sarà trainante e sarà un alleato fondamentale per le città per cambiare i sistemi di mobilità ad oggi lo sarà sempre di più quindi si sposta l'attenzione sulla responsabilità non solo del settore di crescere in modo organico e di crescere in modo che possa aiutare la transizione non soltanto guardando chiaramente al proprio profitto chiaramente che quello è un altro tema su cui dopo arriverò però c'è la responsabilità anche da parte delle città di creare un sistema creare una regolamentazione che agevoli questo mercato ma che lo indirizzi verso gli obiettivi che essa si pone molto velocemente abbiamo visto e questo è semplicemente la dimostrazione di come la regolamentazione sta evolvendo quando siamo quando abbiamo per chi c'era quando è iniziata nel 2017 nel 2018 questa forma di mobilità siamo partiti con a volte forme di sperimentazione sotto licenza a volte senza senza di fatto un piano regolatorio chiaro invece poi piano piano stiamo evolvendo adesso stiamo andando verso le città in primis dicono andiamo verso un sistema a tre operatori a due operatori a quattro operatori ma comunque restringiamo mettiamo delle regole più chiare facciamo una selezione e andiamo andiamo avanti ed è molto interessante vedere come in questi quattro anni oggettivamente tre anni la regolamentazione è cresciuta insieme al settore quindi abbiamo prima toccato Oslo e adesso andiamo a vedere altri due principi che abbiamo appreso e imparato come operatore che porta qua quindi umilmente la propria esperienza nel lavorare appunto con città in Europa allora un obiettivo un principio fondamentale che adesso cominciamo a vedere anche replicato in città italiane stabilire obiettivi chiari e concreti siamo trovati sempre di più a interagire con le città in Europa che sapevano esattamente dove volevano andare sapevano esattamente quali obiettivi o perlomeno quali indicatori volevano osservare e quindi con noi operatori il tema qual era? Era quello di creare un tavolo di lavoro costante partendo però da principi chiari obiettivi chiari ai quali si voleva tendere e vi porto l'esempio di Londra Londra sperimentazione con TFL tre operatori di cui appunto Tire e parte la città chiede fin dall'inizio di creare un servizio che potesse e un sistema di interazione con noi che potesse analizzare l'impatto dei monopattini sulla qualità dell'aria su come variava la domanda di mobilità capire come si poteva interagire e integrare il trasporto pubblico e capire e valutare la sostenibilità economica del servizio del noleggio quindi noi impostiamo delle regole vediamoci sentiamoci condividiamo i dati per capire se quello che stiamo facendo a livello di regolamentazione va verso la nostra visione di città tra dieci anni va nell'interesse del cittadino e va anche a costituire un sistema sostenibile a livello economico per gli operatori e quindi alcuni esempi è stata fatta una task force di ricerca per soddisfare gli obiettivi dell'esperimentazione che vi ho citato velocemente abbiamo scoscritto insieme le procedure di gestione degli incidenti svolto indagini congiunte con la città metropolitana e appunto la consegna periodica delle relazioni rispetto all'andamento del business e non solo con la città e con TFL ma anche con i vari municipi della città secondo principio che vi porto attenzione oggi è il ripensamento dello spazio urbano poi dopo appunto c'è l'intervento anche sul tema sulla conferenza ma è chiaro introduciamo una nuova forma di mobilità ci dobbiamo domandare quali spazi questa nuova modalità di mobilità andrà ad occupare e come metterla in relazione con gli altri e qui chiaramente gli elementi fondamentali sono due il tema del parcheggio e il tema della pista ciclabile non diciamo niente di nuovo ma portiamo l'esempio di Parigi di cui prima abbiamo sentito l'intervento ma sulla scorta di un elemento di un assioma che direi che è la realizzazione delle infrastrutture in particolare piste ciclabili dedicate a un maggior impatto sulla percezione di sicurezza e sulla possibilità che gli utenti facciano uso della micromobilità quindi non basta mettere mezzo a disposizione delle persone dobbiamo assolutamente investire in infrastrutture e questo appunto l'esempio di Parigi che penso un po' tutti insomma su questa platea conoscano è la rete infrastrutturale di Parigi sia sulla mobilità sia sulle piste ciclabili che sui parcheggi è stato deciso di fare un intervento importante appunto come abbiamo sentito prima sui parcheggi a Parigi ogni di fatto il sistema non è più in free floating è un sistema con punti parcheggio ma punti parcheggio con un'alta densità tema di cui parliamo da tantissimo tempo però Parigi ha dimostrato che si può fare si può andare in quella direzione se non per tutta la città per aree particolari come ad esempio Milano ha fatto per l'area C terzo terzo principio la conoscenza del settore fondamentale per qualsiasi processo di regolamentazione ma anche diciamo nostro per poter operare conoscere bene il servizio ma conoscere bene anche la città quindi il reciproco integro diciamo il messaggio della slide per poter veramente riuscire a creare delle regolamentazioni che vadano verso il bene di tutti ultimo un esempio di due regolamentazioni di due che di fatto stanno avendo un impatto in Italia e non solo sui quali vogliamo fare un piccolo scenno è l'utilizzo del casco e l'obbligo delle verifiche del documento questi sono due punti aperti che vi consegno non c'è da parte nostra nessun tipo di volontà di tirare la giacchetta a nessuno vi racconto del casco Tier Mobility arriva appunto nel dicembre dell'anno scorso decide di avviare una sperimentazione equipaggiando mille mezzi con 500 caschi per vedere che cosa succedeva beh di fatto ad oggi dopo nove mesi di sperimentazione due città Milano e Roma coperte con questa tecnologia qual è stato il risultato? solo lo 0.1% delle corse è stata fatta utilizzando il casco voglio insinuare qualcosa no però vi dico che sul tema della percezione della sicurezza il casco non ha risposto a questa esigenza da un punto di vista di percezione da un punto di vista invece sulla verifica però dall'altro scusate chiudo discorso abbiamo visto una riduzione di più del 50% degli utilizzi sui mezzi che aventi il casco e quindi di fatto una diminuzione dell'accessibilità e una non risposta a una ipotetica esigenza di maggior sicurezza ipotetica perché comunque come abbiamo parlato anche prima rispetto ai dati dell'osservatorio c'è o non c'è il tema sicurezza sul monopattino c'è il tema sicurezza nella strada tema carta di identità appunto verifica un altro tema sul quale non abbiamo l'ambizione di tirare la cecchetta a nessuno ma riportiamo i dati che abbiamo osservato in Italia una riduzione di oltre il 50% di fatto dell'utilizzo nelle città dove vi è il controllo automatico della carta di identità di fatto però senza poter limitare o evitare le frodi quindi di fatto è una risposta anche questa quello che noi ci sentiamo di dire è che forse la risposta su tanti temi è anche un maggiore controllo da parte delle città da parte delle forze dell'ordine crea delle sinergie in cui noi chiaramente mettiamo delle politiche in atto ma dall'altra c'è anche un controllo da parte delle forze dell'ordine delle città quindi in sintesi i tre punti fondamentali che ci portiamo dietro da questa grande esperienza che ci siamo fatti in Europa definire una strategia chiara e obiettivi chiari anche partendo dalla sostenibilità dei servizi tra città e operatori investire su infrastrutture che sono un elemento fondamentale cardine per far funzionare un sistema di mobilità qualsiasi esso sia conoscere bene il settore e conoscere bene la città quindi reciproco non soltanto da parte delle città e chiudo con l'ultima slide con quelle che per noi sono le idee per un più funzionale contesto regolamentatorio fornire chiarezza e coerenza normativa attraverso un quadro regolatorio omogeneo soprattutto in ambito di avvisi pubblici e bandistica introdurre delle politiche pubbliche per potenziare la micromobilità condivisa a livello locale e abbiamo sentito prima il ministro che parlava appunto anche del DL infrastrutture che ha stanziato dei fondi quindi in quella direzione ci siamo andati e ci auspichiamo come società e spero anche come settore che si possa continuare su quel segno selezionare gli operatori con criteri obiettivi quindi mi rimando sempre alla necessità di avere un sistema condiviso di principi sulla bandistica e incoraggiare il buon comportamento e attivare i controlli questo chiaramente è un ambito su cui anche noi abbiamo la nostra responsabilità e sul quale nessuno di noi si è mai sottratto e parlo penso a nome di tutti grazie infinite grazie mille a Saverio Galardi solo uno spunto fondamentale secondo me la Green City è una città dove si vive meglio appunto lo raccontava negli esempi di Parigi Oslo-Londra si respira meglio c'è una qualità della vita più alta quindi la sharing mobility è uno strumento fondamentale per arrivare a questo le città hanno in mente devono avere in mente questo obiettivo come arrivarci attraverso la conoscenza da dove parto e dove voglio arrivare quindi questo mi sembra assolutamente fondamentale per poter andare avanti come diceva anche Sara accelerando ora io lascio la parola all'analista osservatorio sharing mobility Luca Refrigeri una colonna diciamo della fondazione sviluppo sostenibile dell'osservatorio lui ci farà una relazione sulla sharing economy siamo nell'ambito della green economy quindi non solo avere come obiettivo la qualità della vita che passa attraverso obiettivi ambientali ma anche quella della qualità economica del nostro vivere quindi Luca ti lascio la parola io farei un applauso a Anna Parasacchi che è bravissima e che con le green city stanno facendo un lavoro fantastico anche con Alessandra Bailo che ho visto prima in sala vai Luca grazie buongiorno buongiorno a tutti allora visto che comunque siete caldi e allenati sul sondaggio con Raimondo ne abbiamo preparato un altro un'ultima domanda di riserva per tutti voi però questa volta interroghiamo la vostra percezione attenzione dovete applaudire se pensate che la sharing mobility sia molto costosa prego a sorpresa ok va bene secondo te quanti erano? 20%? io aspettavo zero in realtà dato il pubblico però effettivamente allora questa in realtà è la domanda che ci siamo posti quando abbiamo cominciato a lavorare a questo approfondimento appunto sulla dimensione economica della sharing mobility e sulle tariffe quindi ci siamo messi dalla parte dell'utente e ci siamo chiesti se per un utente effettivamente utilizzare un video di sharing mobility è costoso la risposta diciamo ecco già dalla prima slide una conclusione importante di questo approfondimento ci arriva subito la stima al costo al minuto di un viaggio medio in sharing mobility tutto sommato ha un costo medio che chiaramente è più vicino a quella del TPS che ovviamente è il servizio di mobilità condivisa meno caro e lontana comunque dal taxi che ha ovviamente un'organizzazione di servizio completamente differente la sharing mobility si posiziona a un livello intermedio e molto vicino al TPL questo ci dice una cosa importante innanzitutto che la sharing mobility oltre ad allargare il ventaglio dell'offerta di mobilità condivisa lo fa anche ad un prezzo comunque abbastanza economico per l'utenza andremo avanti con le slide e vi faccio partecipare di tutto il nostro processo che ci ha portato avanti e di studio appunto di questo tema abbiamo a questo punto messo in relazione la stima al costo al minuto diciamo della sharing mobility con la durata media del viaggio qui ovviamente ogni servizio ha una sua tipicità per come viene utilizzato e nel grafico di destra la stima del costo del viaggio medio nelle diverse tipologie di servizio ci fa vedere delle cose interessanti innanzitutto che il bike sharing station base e il TPL condividono il primato di essere due servizi molto economici nell'arco appunto nell'ambito della mobilità condivisa e poi è interessante anche quello che emerge dai servizi di micromobilità ah è vero c'è una bella differenza di micromobilità in sharing free floating quindi il monopattino sharing il bike sharing free floating e lo scooter sharing che hanno delle durate diciamo vengono utilizzate con una il viaggio medio ha una durata piuttosto breve ma stanno diciamo in una fascia di prezzo media quindi questo ci dice chiaramente che effettivamente offrono un vantaggio evidentemente per l'utente in termini anche di utilizzo quindi velocità di spostamento facilità di parcheggio e dunque a seconda anche una propensione diciamo alla spesa maggiore per l'utente non ci siamo fermati a questo perché a questo punto abbiamo messo in relazione il costo del viaggio medio anche con il tasso di rotazione quello medio del 2021 per le diverse tipologie di servizio tasso di rotazione che vuol dire numero di noleggi giornalieri per veicolo e abbiamo risposto a quest'altra domanda quanti ricavi genera un veicolo al giorno più o meno quello che emerge è che i servizi di car sharing riescono a fatturare giornalmente una cifra maggiore dei servizi di micromobilità che si fermano invece al di sotto dei 5 euro una cosa interessante anche da notare in questo grafico come vedete sono due le barre nella stima del ricavo medio giornaliero una deriva appunto come abbiamo detto dalla stima del costo al minuto il primo grafico che abbiamo visto l'altra invece l'abbiamo calcolata a partire dai fatturati comunicati dai diversi operatori del network che ci hanno aiutato e che ringrazio sempre anche per la pazienza ovviamente che ci hanno aiutato con i loro dati e abbiamo appunto calcolato un'altra diciamo dimensione del ricavio medio giornaliero la differenza che emerge ovviamente è una differenza legata anche all'articolazione tariffaria dei servizi di sharing mobility quindi offerte pacchetti di viaggi accordi B2B e qui apro invece una parentesi visto che parliamo di fatturati parliamo di ricavi apriamo una parentesi invece anche sui costi della sharing mobility in particolare potenziali fattori di costo straordinari per gli operatori che sono legati agli eventi di vandalismo e furto questo è diciamo una prima elaborazione che abbiamo cominciato a fare quest'anno e che vorremmo approfondire anche nel prossimo rapporto insomma prossimamente perché riteniamo sia una cosa molto interessante e comunque una cosa soprattutto molto interessante per gli operatori e per i servizi stessi nonché anche per gli utenti ovviamente hanno tutto l'interesse di trovare sempre veicoli funzionanti eccetera quello che emerge dalla percentuale media della flotta colpita da atti di vandalismo e furto nel 2021 è che per quanto riguarda gli atti vandalici e i veicoli rubati le biciclette ne subiscono la maggior parte invece per quanto riguarda il furto di batterie molto grave ovviamente per un veicolo elettrico e furto di altre componenti c'è un primato indiscusso dello scooter sharing chiusa questa parentesi sui costi torniamo invece facciamo un passo indietro e torniamo invece all'impatto economico che la sharing mobility ha per un utente quindi come ci siamo mossi da questo punto di vista ci siamo immaginati quattro tipologie di individui che utilizzano diciamo che si muovono ogni anno utilizzando un mix di modalità differenti chiaramente è un'ovvia semplificazione però comunque per rendere l'idea diciamo di quanto poi alla fine il costo economico della mobilità vari a seconda che uno utilizzi veicoli di proprietà come l'automobile o utilizzi veicoli in condivisione appunto quelli di sharing mobility abbiamo individuato l'individuo diciamo che abbiamo chiamato neutrale che è proprietario di un'automobile ma che utilizza per esempio il TPL nello spostamento casa lavoro ovviamente c'è una quota di spostamenti a piedi inevitabile che teniamo in considerazione per tutti gli individui l'autodipendente invece che è colui che possiede un'automobile di proprietà ed utilizza per la maggior parte dei suoi spostamenti quell'automobile l'auto indipendente che non possiede un'automobile di proprietà ma utilizza un altro veicolo che abbiamo individuato poter essere per esempio una bicicletta e un mix di mobilità condivisa tra cui anche ovviamente la sharing mobility e poi c'è il collettivo invece colui che non possiede nessuna tipologia di veicolo privato e utilizza soltanto mobilità condivisa quello che viene fuori è molto interessante ovviamente l'autodipendente il neutrale cioè coloro che possiedono un'automobile sono quelli che abbiamo stimato spendono di più all'anno cioè circa 4.500 euro per una media di 5,22 euro a spostamento circa il collettivo e l'auto indipendente coloro che non possiedono l'automobile invece sono quelli che spendono meno e c'è una bella distanza come vedete tra tra queste tipologie di utenti della mobilità 1200 euro circa il collettivo e meno di 1000 euro l'auto indipendente qui nella prossima slide lo vediamo appunto con il costo medio degli spostamenti per i differenti pattern di mobilità quindi abbiamo detto circa 5,20 centesimi di euro per il neutrale e l'autodipendente e molto al di sotto l'auto indipendente e il collettivo nel grafico di destra abbiamo rapportato questo anche al salario medio diciamo che abbiamo più o meno arrotondato a 1500 euro e quindi vediamo quanto impatta a livello mensile invece quanto impattano i diversi pattern di mobilità e poi ci siamo rifatti una citazione visto che Pollicino e a questo punto pure il piccolo principe lo mettiamo dentro perché l'essenziale è invisibile agli occhi e quello che fa la differenza come avrete capito è senz'altro il possesso di un'automobile in Italia si stima che il costo medio annuo e l'uso di un'automobile è 5.400 euro i soli costi fissi quindi la svalutazione dell'auto l'RCA il finanziamento la revisione annuale la tassa automobilistica e la manutenzione fissa pesano per 3.800 euro quindi gran parte di questo costo annuale e questi sono evidentemente dei costi invisibili cioè che non paghiamo ogni volta che utilizziamo l'automobile e che ci spostiamo con essa abbiamo fatto il gioco di metterli dentro il salvadanaio questi 3.800 euro e utilizzarli per viaggi di sharing mobility quello che emerge i risultati sono quei numeri lì 261 corse di car sharing 828 di bike sharing per un totale circa di 21 spostamenti settimanali che più o meno equivale alla media di spostamenti che un italiano fa in 7 giorni qui riprendo quello che abbiamo detto prima cioè quindi i fatturati che ci sono stati comunicati dagli operatori per darvi questi altri numeri il fatturato complessivo della sharing mobility nel 2021 è stato di 130 milioni di euro con un incremento del 52% rispetto al 2020 con la ripartizione che vedete nella torta di sinistra e questo per concludere ci è servito per dare una dimensione quantitativa a degli stimoli che vogliamo darvi su questo tema cioè quanto costerebbe per le finanze pubbliche applicare l'aliquota al 10% per i servizi di sharing mobility che adesso è al 22% nel 2021 sarebbe costata 11,5 milioni di euro questo tipo di iniziativa senza contare ovviamente un ulteriore gettito che poteva derivare da un aumento della domanda a un prezzo più basso e abbiamo fatto anche un altro salto un po' più in avanti e abbiamo detto se il 65% delle tariffe praticate dagli utenti fosse sussidiato secondo uno schema analogo a quello del TPL nel 2021 questo tipo di iniziativa sarebbe costata circa 90 milioni ho finito grazie Luca grazie grazie anche per il lavoro che avete fatto fantastico fra l'altro ci hanno chiesto molti dove trovare tutto questo da domattina tutte le presentazioni saranno disponibili gratuitamente in download sul sito dell'osservatorio sul sito della fondazione e quindi aperte a tutti ma a questo punto Luca dopo la tua presentazione facciamo la domanda applauda chi pensa che la scena immobilità è costosa sono sempre gli stessi quindi come sono l'auto indipendente che stanno in sala giustissimo allora io chiamerei visto ringrazierei anche Sara e Saverio che ringrazio potete accomodarvi stiamo andando verso la conclusione della giornata che faremo con Edo con Edo Ronchi Edo ha seguito tutta la mattinata e gli chiederò di fare una conclusione un po' anche con una visione generale prima di Edo Ronchi chiamerei Angelo Mautone che è il direttore generale del ministero per la mobilità e le infrastrutture sostenibili eccolo Angelo prego benvenuto siediti prego accomodati sembra che ci siamo messi d'accordo con Luca e in realtà ci siamo messi d'accordo perché la sua ultima slide dice ma se se la sharing mobility fosse sussidiata così con lo stesso schema mentale con cui è sussidiato il TPL chiaramente con molti zero in meno perché il fondo TPL mi pare che sia 6 miliardi di euro l'anno cosa accadrebbe per le casse dello Stato allora io ricorderete la conferenza dell'anno scorso ci fu la relazione del professor Bernardo Mattarella che ci riportò le conclusioni della commissione Mattarella proprio qui in questa sala e ci disse che sarebbe fondamentale adottare anche un supporto alla sharing mobility per le spese correnti e non solo per le infrastrutture per aiutare la diffusione della sharing mobility considerandola simile al trasporto pubblico era venuta questa proposta scientifica poi tu Angelo avevi detto sarebbe interessante farla io devo dire con estrema onestà e anche questo non succede spesso che noi dopo un anno possiamo dire che l'abbiamo fatto cioè il ministero ha realizzato un decreto per cui secondo me ha aperto la strada verso una nuova forma e una nuova mentalità per il sussidio ai servizi di sharing che ne dice Angelo di questa mia sintesi la sintesi è efficace sei riuscito a dire tutto in pochissime parole in realtà io provo un po' ad ampliare il discorso con la commissione Mattarella noi facemmo una serie di valutazioni e considerazioni su vari temi che riguardavano il trasporto pubblico locale uno di questi era quello del famoso ultimo e primo miglio con la mobilità condivisa in realtà i lavori della commissione che coinvolsero molti interlocutori le regioni i comuni le associazioni datoriali del settore del trasporto pubblico locale i sindacati concordarono su questa impostazione anche se è una impostazione diciamo innovativa ma se considerassimo la mobilità condivisa come un appendice del trasporto pubblico locale quali sarebbero gli effetti sulla mobilità locale ci sarebbe un incremento della domanda di mobilità pubblica questo noi lo possiamo solo ipotizzare perché ad oggi non c'è ancora un sistema di sommenzionamento della mobilità sostenibile intesa come mobilità complementare ai servizi di trasporto pubblico locale ad oggi ancora non abbiamo fatto questa sperimentazione ma come tu dicevi con il decreto legge 68 del 2022 che incide in modo importante sul settore del trasporto pubblico locale è stata prevista anche la possibilità di effettuare per un triennio una sperimentazione di questo tipo in realtà la norma fa riferimento a uno più decreti del ministro che individuano dei progetti per sperimentare appunto questo connubio tra il trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa la scelta che si è seguito in considerazione del fatto che il provvedimento legislativo è un provvedimento di agosto sostanzialmente quindi i tempi sono tempi estretti per poter procedere al finanziamento soltanto di alcuni progetti in via sperimentale è stata quella di fissare dei criteri uniformi sull'intero territorio nazionale ma di prevedere la sperimentazione sull'intero territorio nazionale tramite i soggetti istituzionali a gestire il trasporto pubblico locale quindi tramite in prima battuta le regioni gli enti locali e le agenzie per la mobilità come si svolgerà questo programma di utilizzo di risorse pubbliche per la prima volta destinate a creare questa saldatura del trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa si svolgerà con la presentazione di progetti che verrà effettuata direttamente dalle regioni sentiti gli interessi locali e le agenzie per la mobilità interessate ai servizi tpl coinvolti e sostanzialmente sulla base di criteri che abbiamo definito in modo generico nel decreto il meccanismo consentirà di procedere a una ripartizione di circa 15 milioni non sono grossi importi ma vediamo quale sarà l'effetto della sperimentazione sull'intero territorio nazionale per un triennio quindi avremo programmi di un triennio in cui sostanzialmente noi ipotizziamo che ci sia l'abbinamento magari al al biglietto della metropolitana o al biglietto unico che comprende i servizi urbani e la metropolitana ma anche l'utilizzo o comunque l'utilizzo ad un prezzo ridotto degli strumenti di mobilità condivisa ovviamente siamo in una fase del tutto sperimentale bisognerà vedere poi in concreto come queste procedure potranno attuarsi quindi diciamo siamo sulla buona strada tu facevi poco fare in mondo alla commissione mattarella su questo tema si era parlato come su altri temi su questo tema si è iniziato a fare non con grossi importi ma ovviamente con importi che ci consentono di vedere un primo effetto di carattere operativo sul terreno devo aggiungere e questo per onore di cronaca tutti d'accordo su questa impostazione non è stata molto gradita dalle regioni l'ipotesi di utilizzare una quota del fondo nazionale voi sapete che le regioni sono gelose del fondo sono risorse destinate originariamente esclusivamente al trasporto pubblico locale però secondo me questa scelta è stata una scelta intelligente proprio per affermare lo stretto collegamento col TPL un finanziamento a sé stante poteva essere un finanziamento visto come un finanziamento esclusivamente alla mobilità condivisa io lo vedo invece come un finanziamento anche al TPL perché tramite la mobilità condivisa dovremmo avere un incremento della domanda di mobilità pubblica quindi un incremento dei passeggeri nel trasporto pubblico non sarà sufficiente solo questo ma comunque questo è uno dei tasselli di un mosaico più ampio che stiamo pian piano costruendo grazie quindi alle regioni e ai comuni e all'agenzia delle mobilità che parlano con le regioni scusate stavo facendo pararotti perché non ho acceso il microfono alle regioni e all'agenzia delle mobilità diciamo quindi che già i fondi 2022 sono aperti quindi possono già presentare progetti per quest'anno di scena immobili allora il decreto è definito il decreto è concordato con con Anci Regioni e MEF non è ancora formalizzato perché stiamo effettuando un'ultima verifica per il tema aiuti di Stato c'è stata richiesta in particolare da una regione noi non vediamo difficoltà particolari per una regione altrimenti sarebbe andato alla prossima conferenza unificata quindi diciamo sull'impostazione siamo tutti d'accordo e l'impostazione prevede una ripartizione delle risorse per un triennio quindi non ci sarà una chiamata annuale ma su tre anni su tre anni e i progetti saranno presentati dalle regioni entro marzo del prossimo marzo del prossimo anno quindi se i progetti corrispondono ai criteri che sono indicati nel decreto automaticamente le risorse che verranno subito erogate per il 2022 quindi verranno comunque trasferite subito alle regioni le risorse saranno assegnate con la percentuale predefinita in automatico alle regioni per un triennio 22 23 24 poiché siamo partiti in ritardo perché siamo oramai a fine anno abbiamo previsto che la durata dei progetti debba essere triennale cioè sull'arco del triennio ma abbiamo anche previsto che in considerazione del ritardo nell'attuazione della norma non dovuta alla volontà di nessuno ma il decreto legge è stato convertito ad agosto quindi sostanzialmente dal punto di vista operativo abbiamo poco meno di un trimestre nel momento in cui poi il decreto è firmato registrato ed operativo un trimestre per attuare questa sperimentazione abbiamo previsto che i progetti ammessi a contributo possono avere una durata anche fino a giugno del 2025 quindi ci siamo estesi al 2025 con le risorse però stanziate per il 22 23 e 24 credo che il lavoro sia stato un lavoro abbastanza buono piena intesa con regioni ANCE e con MEF ripeto è una sperimentazione vediamo che cosa accade grazie Angelo grazie a te e alla tua direzione perché avete realizzato una cosa molto importante per tutti noi grazie grazie ora per fare le conclusioni della giornata ma anche per mettere tutto questo all'interno di una strategia generale io chiamerei Edo Ronchi il presidente della fondazione per lo sviluppo sostenibile Edo vieni qui con noi c'era lo scalino ma hai fatto lo sportivo allora Edo prima di chiederti come hai visto e quali sono le conclusioni secondo te di questa mattinata secondo me molto intensa ti faccio una domanda non te lo saresti mai aspettato che il decreto sul car sharing del 1998 fatto dal ministro dell'ambiente di allora di cui non faccio il nome avrebbe portato poi a un'esplosione di questo tipo cioè il car sharing station based esiste dal 1998 poi con le tecnologie è successo di tutto non te lo saresti mai immaginato no francamente no ma comunque sta succedendo qualcosa di molto diverso come l'avevamo immaginato allora almeno penso io adesso abbiamo un'evoluzione verso sempre una sharing mobility ma come veniva evidenziato dai dati più basata sulla micromobilità su veicoli più leggeri elettrici con una leva della sostenibilità molto forte che guida questo cambiamento questo è avvenuto per una serie di ragioni forse quello da non trascurare è anche lo smart citizen cioè che il cittadino poi alla fine è agente di questo cambiamento e forse anticipa alcune trend perché alcune sono evidenze cioè la mobilità basata sull'auto è una mobilità irrazionale perché occupa un sacco di spazio perché il mezzo è pesante vuol dire che consuma un sacco di materiali e inefficiente energeticamente in fondo ci stiamo evolvendo in una direzione di utilizzo migliore di risorse scarse poi la base della sostenibilità che vuol dire durata nel tempo è questa vorrei sottolineare un dato che voi avete detto nelle varie comunicazioni ma che sarà rafforzato a mio parere in prospettiva che è il dato della decarbonizzazione cioè quando iniziamo a parlare di mobilità sostenibile puntavamo ovviamente a decongestionare il traffico urbano e a contrastare l'inquinamento locale e soprattutto il fenomeno delle polveri sottili del PM che assilla assilla molte città adesso il driver ancora non percepito in maniera adeguata è quello del cambiamento climatico che sarà molto più secondo me molto più forte e cogente del cambiamento della mobilità soprattutto a livello urbano ma per una ragione secondo me ovvia l'urbanizzazione è inarrestabile la crisi climatica ha nelle città il punto più critico nelle città si manifesta il fenomeno inevitabile anche questo delle isole di calore la città si scalda ma la differenza di questo riscaldamento soprattutto di notte è importante 5-6 gradi in più l'abbiamo visto anche quest'estate quindi la città diventa una diciamo una sede un luogo molto più vulnerabile al riscaldamento globale e l'attenzione dei cittadini al riscaldamento globale sarà per questo motivo pratico è crescente ed è un fattore molto importante d'altra parte il trasporto è il settore di emissioni di gas serra più difficile da tagliare in Italia noi dal 90 al 2019 è l'unico settore dove abbiamo aumentato le emissioni del 3,2% mentre in tutto il resto le abbiamo calate oltre il 20% poi c'è stata la pandemia calo delle emissioni del 16,4% ma appena c'è stata la ripresa il trasporto subito 15,7% in più al 2021 quindi si conferma che la decarbonizzazione o passa dal trasporto il 90% delle emissioni del trasporto è il trasporto stradale il 70% sono le emissioni delle auto quindi se vogliamo affrontare seriamente il tema del clima della crisi climatica che è una minaccia per la capacità delle città di continuare ad essere attrattive perché sono in grado di dare dei vantaggi sulla qualità della vita in sostanza o noi siamo in grado di affrontare questa sfida decarbonizzando i trasporti e quindi in particolare la mobilità urbana oppure dovremo via via abbandonare le città perché diventeranno i centri dove peggio più grave più pesante sarà l'impatto del riscaldamento globale 5-6 gradi in più sono tanti cioè questo sul riscaldamento delle aree urbane delle città diventa veramente un fattore critico adesso come spesso accade intuiamo capiamo ma il link diretto fra riscaldamento della città quindi invivibilità in certi mesi dell'anno con gravi conseguenze per la salute e mobilità ancora non è forte ma via via questo link diventerà più presente e più diretto e lì diciamo la spinta forte a questi trend che stiamo verificando della sharing mobility leggera con meno spazio meno consumo di materiali meno consumo di energia elettrica tutta questa discussione sull'auto la citava il ministro Giovannini in introduzione stamattina deriva dal fatto che in Italia l'auto a combustione il motore a combustione è un settore industriale molto importante 70 mila addetti e l'auto invece elettrica ma con tutti gli annessi e connessi significa riduzione del peso economico e occupazionale di un settore industriale importante per l'Italia è una presa d'atto mi è già successo di discutere di questo problema in altre sedi vedete quando si passò dalla carrozza a cavalli all'automobile la miseria i cavalli mangiavano dappertutto ce n'erano tantissimi ed era un settore fiorentissimo ma non c'era niente da fare non è che potevano difendere la carrozza a cavalli perché l'auto aveva tutta una serie di opportunità oggi l'auto è diventata una diseconomia perché è troppo pesante per portare in giro una persona le cose che ho appena detto perché occupa uno spazio enorme nella città perché costa un sacco di soldi come abbiamo visto e siamo per usare in maniera efficiente le risorse anche economiche e perché consuma tanta energia il motore a combustione è inefficiente cioè è un prodotto di un'epoca nella quale potevamo usare un'energia ultra abbondante fossile a basso costo e è un'epoca che dobbiamo lasciare alle spalle volenti o nolenti l'auto ormai è un mezzo antistorico perché dal 30 al 40 per cento dell'efficienza è veramente una cosa che non ci possiamo più permettere il motore elettrico come sappiamo efficienza del 90 per cento poi tendiamo a una mobilità più leggera e via dicendo quindi non ha storia questa sfida ormai è risolta in questo rivoluzione coincide con evoluzione perché è un cambiamento in qualche modo in atto e che non ci può sarebbe stupido contrastare anzi bisogna interpretarlo in avanti io penso che la sharing mobility sia un'anticipazione sia dentro questo percorso di cambiamento globale non a caso la sharing economy è parte anche di quella visione generale del cambiamento dall'economia lineare all'economia circolare in fondo l'utilizzo condiviso di risorse scarse è una cosa intelligente quando io ne ho sovrabbondanti e posso permettermi di inquinare mari e monti perché siamo in pochi a farlo e il mondo è ancora grande è la via più facile ma quando siamo 8 miliardi ancora in crescita quando abbiamo raggiunto certi limiti dello sviluppo al punto che stiamo cambiando il clima del nostro pianeta e non possiamo reggere un cambiamento climatico come quello che si è innescato allora la strada è usare le risorse scarse in maniera condivisa e anche la sharing mobility fa parte di questo processo di cambiamento di questa visione in linea col cambiamento in linea con un futuro sostenibile questa è un po' la sostanza e quindi ci sono vari aspetti il collegamento con la digitalizzazione con il trasporto pubblico locale come è stato ben sviluppato con diciamo gli assetti di supporto nella città io penso però che la forza della sharing mobility sia quella di questo fiume nel quale è inserita del cambiamento verso un futuro sostenibile grazie edo anche per aver citato il fiume e l'acqua che siamo qui e l'acqua grazie in effetti è una delle cose belle di lavorare con edo e guardare avanti noi abbiamo sempre legato la sharing molto alla parte climatica in effetti il fatto che siamo parte della sharing economy quindi dell'economia circolare e l'utilizzo di risorse è un tema su cui come osservatore dovremmo ragionare di più per esempio prima nel coffee break è venuta una persona che mi ha detto io faccio parte di un centro studi che sta a Londra che sta valutando l'utilizzo di materie nel mondo della mobilità per tutte le materie prime le terre rare e come questo si incastra con la sharing mobility ecco questo secondo me è un nuovo fronte come tu ci hai segnalato su cui dobbiamo lavorare adesso e stiamo andando verso la pausa del pranzo che è anche un modo per fare networking prima di fare pranzo io vorrei fare una cosa però che ancora non ho fatto io vorrei ringraziare la persona che è il motore di questa organizzazione che è Valeria Gentili che sta qui e vi dico prima di andare a pranzo che abbiamo i dati della nostra gara non sappiamo se Edo ha vinto ma il ministro non ha vinto questo ve lo posso dire allora vi facciamo vedere qualche chiaramente il vincitore lo sapremo alle 17 ma vi facciamo vedere come è andata con le domande mi puoi mostrare le slide per favore velocissimo poi chiaramente la presentazione dell'award la faremo alle 17 vai con la prossima allora innanzitutto noi qua non c'è il numero ma abbiamo avuto 192 partecipanti e quindi potenzialmente 400 persone che potrebbero andare a fare un weekend abbiamo anche pensato che noi potevamo scegliere chi mandare nel weekend con la persona che aveva vinto fra quegli altri che avevano partecipato le due persone le potremmo scegliere noi ma poi si è creata una serie di problemi che poi vi racconterò allora solo due persone hanno fatto 10 su 10 e non sono i nostri dell'osservatorio che sapevano già tutto che avevano proprio lobby non potevano neanche partecipare non è il ministro non so Edo non ti chiediamo quanto hai fatto eh quanto hai fatto come 4 no ha fatto 4 perché si è fermato alla quinta domanda invece 42 persone hanno fatto 5 e c'è una lotta perché di questi due forse se non rimangono alle 17 vincono quelli che hanno fatto 9 che sono 6 persone c'è anche un'altra slide la domanda più azzeccata come direbbe di Pietro quanti chilometri sono stati percorsi dai veicoli questi hanno copiato tutti il rapporto di Ciuffini chiaramente c'era là ed era quasi 150 persone cioè il 20% non è riuscito neanche a copiare il rapporto che c'aveva dentro la cartellina la domanda più mancata è cosa è stato introdotto a Berlino all'inizio del 2020 hanno detto quasi tutti il centro città senza auto e invece era un tetto sugli affitti quindi questo è solo il 16% finito o ce n'è un'altra il 54,9% ha risposto correttamente la domanda su Hermann Knopflager che ha costruito un girello questo ed è andato in giro per le strade con questo girello per far vedere come lo spazio viene poi è stato portato via chiaramente ricoverato ma ha fatto questa cosa che ha avuto molto effetto il 54,9% ha risposto correttamente a questo allora detto questo adesso noi ci salutiamo per diciamo 50 minuti ci vediamo qui alle 14.10